SIGLA Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Enrico comunque tu lo sai come sono fatte le ragazze è meglio non prendere più in braccio nessuna ragazza più se no tu ti perdi l'amicizia e tu non vuoi perdere l'amicizia vero? Allora mantenere solo l'amicizia capito? Io ti voglio bene non perdere l'amicizia con queste ragazze capito? Allora 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 Allora